Ascanio Celestini porta in scena Museo Pasolini. Sono cento anni dalla nascita del poeta. Ci voleva una narrazione che fosse diversa da quella anche un po' retorica che è cresciuta negli anni intorno alla figura di Pierpaolo Pasolini. Lo spettacolo io l'ho visto al Carcano di Milano, però è uno spettacolo che gira, è già stato in giro e continuerà la sua tournée. Che cosa di particolare? Allora, Ascanio Celestini in una narrazione serratissima, forse già lo conoscete, ha una prosa e un modo di parlare direi a cascata a Valanga, costruisce un museo Pasolini. Cioè si finge praticamente una guida all'interno di un museo che contiene alcuni pezzi. Il primo è la prima poesia di Pasolini, che peraltro è andata perduta. L'ultimo è il corpo del poeta. In mezzo, non vi dico quali sono tutti i pezzi, ma in mezzo c'è anche la valigia della banca, la valigia lasciata nella banca dell'agricoltura a Piazza Fontana. La narrazione cronologica, lui insiste molto, in realtà è una narrazione con continue divagazioni. Qual è il succo? Il succo è che dietro l'uccisione di Pasolini ci sia la strategia della tensione. È una tesi molto complessa, evidentemente che parte addirittura dalla guerra, dalla resistenza, dalla decima massa, che ripesca un personaggio fondamentale della decima massa, che è uno, Valerio Borghese, che è stato l'uomo che ha tentato anche il golpe, e, come dire, lega l'uccisione, evidentemente mai chiarita, di Pasolini a tutta la strategia che in Italia, nel dopoguerra, è servita a tenere lontani i comunisti, sostanzialmente dal potere, o comunque che è servita a tenere i cittadini sotto uno stato di costante minaccia e di allerta. Ovviamente il taglio andava dato alla storia di Pasolini, non è che si potesse raccontare solo la sua vita, quindi lo spettacolo è sicuramente uno spettacolo interessante, ha due sostanziali difetti. È lunghissimo, perché sono quasi due ore e mezza, e monologo, con quel rito, dovete stare sempre attenti, è duro, è pesante da sostenere, due, le divagazioni sono veramente tante, e quindi il rischio di perdersi, secondo me, è alto, e questo tende anche un po' a indebolire la tesi, che pure ha una sua validità. Grazie a tutti.